Iniziere così. Terminavano in questi giorni, 53 anni fa, le riprese gradesi del film Medea, diretto da Pierpaolo Pasolini. La troupe, il giorno 26 luglio 1969, cioè oggi, lasciava la laguna, passava per Aquileia e poi si sarebbe diretta a Pisa, in Siria e la vita di Medea avrebbe preso l'abbrivio mondiale che conosciamo. Bene, è una serata evento voluta fortemente dalla Fondazione Aquileia e anche da chi vi parla, da tutti noi, perché tanti di noi conoscono Pasolini, conoscono il mito di Pasolini e conoscono Pasolini che è un po' uno, di noi, nel senso che conoscono la sua infanzia casarsese, conoscono tanta parte che non è legata invece alla laguna, ad Aquileia e alla bassa friulana. C'è tutta una parte di Pasolini poco conosciuta che è legata a questo territorio. Non so se ora vedete la foto di cui stavo per parlarvi, però c'è una, ci sono delle fotografie a casa di Giuseppe Zigaina e qui con noi abbiamo la figlia dell'artista Giuseppe Zigaina che è Alessandra Zigaina, giornalista della RAI, con me ho Francesca Gossinelli che dal 2011, ma diciamo dal 2006, si occupa dell'archivio di Giuseppe Zigaina e lavora per recuperare l'onesta memoria di quello che è stato un viaggio bellissimo, un viaggio intellettuale importante condotto da Giuseppe Zigaina e non da solo perché era amico di Pierpaolo Pasolini e quando Pierpaolo Pasolini tornò dopo che fu cacciato da questa terra, tornò qui, tornò a Cervignano, tornò in laguna, tornò in un posto che è la nostra bassa friulana. Bene, Francesca, la foto che hai trovato a casa di Alessandra, che fa parte di un rollino fotografico di foto di Pasolini ad Aquileia e che sono inedite, che cosa raccontano? Raccontano una giornata particolare in cui Pasolini insieme a un'amica di San Vito, una comune amica di San Vito al tagliamento, va a trovare Giuseppe Zigaina e insieme vanno verso la laguna, tanto per rimanere in uno dei grandi temi pittorici e anche letterari di Giuseppe Zigaina. Si fermano ad Aquileia e dall'archivio di Alessandra ormai escono delle foto di Pasolini ad Aquileia. Questa che avete visto era una foto che ritrae Pasolini nel 1957 nella Via Sacra, dove ancora oggi quel cipo si trova. È la stessa giornata in cui vediamo la foto successiva, che è un po' l'icona dell'amicizia tra il grande pittore e il grande poeta e regista. È una giornata in cui sono in barca, stanno scoprendo le acque ferme e i silenzi della laguna e su questa foto io mi fermo per passare a raccontare una storia di amicizia. Certo, una storia di amicizia che è fondamentale per capire il personaggio e l'anima e la persona di Pierpaolo Pasolini e Giuseppe Zigaina. Un duale importante. Alessandra, ti ringraziamo molto di essere venuta qui questa sera perché sei sempre molto sobria nei tuoi racconti e molto riservata, quindi grazie davvero da parte di tutti noi per questo racconto che stai per cominciare. Allora, intanto parliamo, siamo negli anni 50 e Pierpaolo Pasolini e Giuseppe Zigaina si conoscevano quando si sono incontrati. Dunque mio padre e Pasolini si sono conosciuti nel 1946 all'inaugurazione di una mostra di mio padre a Udine. Mio padre aveva 22 anni e Pasolini ne aveva due di più, quindi 24, però anche se erano molto giovani in qualche modo si conoscevano già indirettamente. Avevano sentito parlare l'uno dell'altro, tanto che quando Pasolini vide mio padre gli disse ma tu sei quel Zigaina là e Pasolini e mio padre gli disse sì e tu sei quel Pasolini là, quindi in qualche modo avevano già sentito parlare l'uno dell'altro. Pasolini che era un grande appassionato d'arte ed era stato allievo del grande Longhi scriveva d'arte e ha scritto anche diverse recensioni di mostre di mio padre. È nata un'amicizia e a proposito delle recensioni vorrei ricordare, non è una recensione, è un qualcosa di molto più importante, c'è una poesia però nelle ceneri di Gramsci c'è un poemetto che si intitola quadri friulani dove Pasolini prende spunto da una mostra che mio padre fece a Roma nel 54 al Pincio ed escrive i quadri di mio padre, i colori, i personaggi, l'impegno politico, parla dell'impegno politico, parla di ruda, parla di questo diciamo periodo friulano. Comunque insomma nasce questa amicizia che sicuramente si è fondata su una forte intesa intellettuale, mio padre ha anche collaborato con Pasolini, Francesca si è occupata, ha fatto anche una mostra sulle collaborazioni ai film di mio padre con Pasolini, ma oltre che su una forte intesa intellettuale anche penso su molti non detti, su molte cose che come dire quando si dice che con un amico uno si capisce senza bisogno di parlare, ecco era un po' così. E mio padre diceva anche che questa amicizia si è cementata anche sulla comune diversità, Pasolini era omosessuale quando l'omosessualità era un tema scabroso anche per il partito comunista e mio padre era senza un braccio perché lo aveva perduto in un incidente stradale quando aveva cinque anni, quindi in un qualche modo è stato un riconoscersi possiamo dire come diversi e Pasolini ha scritto Zigaina è ontologico per me come io lo sono per lui, dove la parola ontologico ha a che fare con la conoscenza, con la conoscenza profonda. Infatti Pasolini è stato il primo credo, forse anche l'unico che ha capito la grande dissonanza, discrepanza che c'era tra i contenuti dei quadri di mio padre così inquietanti, così tormentati e invece il suo stile di vita, così semplice, sereno anche in apparenza. E quindi insomma c'è stata una conoscenza profonda. I Pasolini, mio padre poi quando Pasolini è morto si è a lungo interrogato sulla morte di Pasolini grazie anche a un'intuizione che come dire forse è propria degli artisti su cui poi lui ha lavorato, ha studiato molto per più di vent'anni, ne sono nati dei libri. Non voglio aprire questo capitolo perché non è questa la serata però insomma se qualcuno è interessato al tema si può documentare. Ecco spero di avere risposto alla domanda. Grazie Alessandra. Francesca, dunque Zigaina portò Pasolini da queste parti e lo portò in Laguna. Esattamente, fu Zigaina a far conoscere a Pasolini la Laguna e scrisse a Zigaina perché Zigaina scriveva un giorno anche gli scoprì la Laguna. Questo è il 1957, poi sappiamo che Pasolini ripassa di qua per la lunga strada di sabbia nel 62, passa dal vecchio Zigaina come scrive e va a grado ancora e poi arriva il 1968 quando Pasolini arriva per Medea. Zigaina lo accompagna proprio in perlustrazione e in una giornata di settembre partendo dall'isola della Schiusa si porta verso le foci dell'Ausa, verso cioè la Laguna di Marano e in un racconto autobiografico scritto da Zigaina proprio c'è la testimonianza di Pasolini che dice qui girerò Medea. In sostanza aveva trovato in quei silenzi immotti, in quel luogo che Zigaina definisce mitico e realistico, aveva trovato la casa del centauro e quell'infanzia, quell'ambiente che rappresentava l'infanzia dell'uomo che gli serviva per cosa quando vedete il film? Per il prologo. Vedrete che proprio si aprirà il film nella Laguna di Grado, sarà diciamo così una durata di 5-6 minuti sui 14 che sono stati girati, veramente il girato è lunghissimo. Di quanto? So che non me lo vuoi dire ma lo puoi dire solo a me. Allora quando sono stati 50 anni nel film Medea io ho cercato di mettere a posto le riprese di Grado e sono andata a cercare i diari di produzione e ho visto quanta pellicola è stata consumata. Ho sommato le 9 giornate in cui sono stati qua, 7 giornate di lavorazione, posso dirlo? Si puoi dirlo. Io ho contato 70 km di pellicola, ovvero sia sono andata poi da uno studioso, mi ha detto sono 35 ore di girato per fare quei 14 minuti fantastici che hanno decretato quell'alleanza tra cinema e territorio che è poi irripetibile, possiamo dirlo, senza offendere film che poi sono stati anche successivamente girati qui, qui da noi. E quindi Medea fu. E come si svolsero i 9 giorni? Allora. Perché l'hai studiato? Sì sì, allora vedrete il film, loro venivano da Anzio dove si era girata la scena finale, quella del grande incendio, arrivano a Grado, è il 18 di luglio, il 19 cominciano a lavorare, per primo arriva Giasone che è la mia simpatia perché era il primatista del salto triplo, quello che portò a casa una medaglia di bronzo nelle Olimpiadi del Messico del 68, ma che aveva male a una gamba e quindi accettò l'offerta di Pasolini. Poi il 19 quindi si cominciò a girare, il 20 arriva Maria Callas. E qui, e qui, dobbiamo dire una cosa, nell'archivio di Zigaina c'è la fotocopia purtroppo di una lettera in cui Pasolini annuncia a Giuseppe Zigaina guarda che Medea sarà Maria Callas. E quindi Maria Callas arriva il 20, voi ricorderete che il 20 luglio del 1969 avvenne lo sbarco sulla Luna e di questo profittò Maria Callas per arrivare qui, per non aver paparazzi eccetera e collocarsi all'hotel argentina di Grado che ancora conserva quel carattere magnifico anni 70. Era un'estate spaventosamente calda, si registravano 34 gradi la notte e i giornali scrivevano di questo. C'erano, non so, Giuseppe Gentile mi raccontò che si arruventavano le parti metalliche durante il giorno quando giravano. Ecco qua per esempio questa immagine, Maria Callas svenne quando girò la scena, a me piace chiamarla della pazzia per analogia con le grandi arie dell'opera lirica. Sì dai ve lo dico, allora torniamo un momentino indietro, ancora una. Ecco Maria Callas sviene, Pasolini è preoccupato, lo vedete è qui di schiena, si sta grattando la nuca, là abbiamo il bel Giasone che era stato ingaggiato da Pasolini perché lo aveva visto in un servizio fotografico davanti a una macchina sportiva. Andiamo avanti e vediamo che ci sono tra le comparse, comparse che venivano da qui intorno, io credo che questa sera una comparsa, mi ha detto guarda che vengo a sentire questa sera una comparsa proprio di ruda che troverete nel film che fa Orfeo, lo salutiamo, non so se ha piacere, insomma salutiamo la comparsa, un'altra comparsa a grado. Quel argonauta grande e grosso che sta tenendo su Maria Callas è un altro campione per esempio, questo sì, tagliatemi a presto perché se no vado troppo avanti, ma è il grande lanciatore del disco italiano, ecco e andiamo avanti per dire che si girò tantissimo, confrontando quanto scritto dal segretario di edizione con le foto di scena, di cui questa è una, mi sono praticamente accorta che sono state tagliate tantissime cose, che Pasolini aveva immaginato per grado delle cose meravigliose, per esempio che ci fossero le sirene e Maria Callas che tentavano gli argonauti e Maria Callas avrebbe cantato per vincere le sirene con una voce più forte, più potente. La scena che vedete qui, che è straordinaria ed è stata tagliata, cioè è impensabile una nudità maschile di questo tipo allora, è la prima barca costruita dall'uomo largo, che anche questa è una scena tagliata. Ma un'altra scena ancora, verso San Giorgio di Nogaro, una scena tagliata molto bella era quella dell'iniziazione all'amore di Giasone che va incontro alla madre terra, che abitava dove? Abitava alle foci del fiume Ausa, circondato dalle ninfe, che erano delle donne di colore, tra cui la porno star. Ecco, una porno star amica del giornale Playman, per cui queste foto nel 68 uscirono anche sui giornali, diciamo così, per soli uomini. Andiamo avanti. Sì, diciamo in un momento in cui l'uomo sbarca sulla luna, perché c'è tanto in questo racconto. Sì, sì, c'è tanto da dire. Sì, Pasolini non le mando a dire. Sapete che, non so, dallo spoglio del giornale ho visto per esempio che intervistarono tantissimi intellettuali e intervistarono anche Pasolini. Sì, da grado. Ecco, il titolo era Pasolini con la luna storta, perché naturalmente, voglio dire, ne disse tantissime contro questa, diciamo, arroganza dell'uomo, se pensiamo a Medea, diciamo dell'uomo Giasone, della, diciamo così, della civiltà che si scontra con quella di Medea, con la civiltà dell'utile, che ragiona proprio per conquiste e per giunta chiama la navetta spaziale Apollo, no? Quindi con questa ipocrisia uministica. Ecco, poi cosa vi devo raccontare? Ok, andiamo, arriviamo al 23. Arriviamo al 23. E al 23 succede una cosa, una grande festa. C'è una grande festa, una grande festa a Casa Zigaina, dove sono invitati tutte le persone che partecipavano, hanno partecipato alle riprese. E Alessandra, che cosa è successo quella sera? Allora, quella sera ci fu appunto questa festa per, a conclusione o a metà, adesso questo non lo ricordo a che punto fosse la lavorazione del film, perché io ero piccola, anche se ho dei ricordi anche di questa festa, ma i ricordi che può avere una bambina, però forse quello che è accaduto di particolare ha a che fare proprio con Aquileia indirettamente. Cioè Pasolini a un certo punto chiese a mio padre che cosa poteva regalare alla Callas che fosse prezioso e nello stesso tempo anche legato a questo territorio. E voi sapete che 50-60 anni fa da Aquileia i contadini scavavano e trovavano reperti romani, tra cui anche corniole romane, per cui si trovavano le corniole. Erano anche utilizzate per fare dei gioielli e c'era un gioielliere a Cervignano che faceva molte cose con questi reperti romani. Insomma mio padre procurò questa corniola a Pasolini e insieme andarono a Udine, da un gioielliere di Udine che si chiamava Zoratti, se non sbaglio, e fecero questo anello. Questa serata, durante questa festa, Pasolini regalò questo anello alla Callas. Ovviamente il regalo di un anello da parte della Callas, che subiva molto il fascino di Pasolini, fu interpretato come una richiesta di matrimonio. E da qui appunto nacque questo equivoco, per cui la Callas poi chiamava mio padre per confrontarsi con lui su come mai poi questa cosa non andava avanti. Cioè sì, ho ricevuto questo anello, però qua la cosa non evolve. E allora mio padre scrive in un racconto, di questo io non sono testimone, però lo ha scritto mio padre in un racconto e l'ho anche raccontato così in altre sedi, che una mattina ricevette molto presto una telefonata dalla Callas, che appunto era disperata per questa situazione di impasse e quindi andò da Pasolini, lo affrontò e gli disse insomma qua bisogna prendere una decisione, cioè o uno segue la sua natura oppure se c'è invece un sentimento, eccetera, bisogna... E Pasolini di fronte a questa cosa, mio padre scrive nel racconto che risponde non posso perché devo girare il film su San Paolo. Questo scrive mio padre nel racconto. Poi ci sono altre versioni, no? Francesca, non vi so dire che cosa rispose esattamente Pasolini alla richiesta di mio padre, insomma deciditi. Ecco questo, non lo so. Alessandra, tu sei l'unica persona qui che ha conosciuto Pasolini e la Callas e che ricordi hai tu di questo mondo che è entrato nella tua vita ed è per tanti anni rimasto perché Pasolini viveva a casa tua quando veniva qui? Viveva a casa mia, non è esatto, era una presenza, insomma veniva spesso, ecco io lo ricordo come una figura, non dico come uno zio ma insomma come una presenza sicuramente familiare. veniva spesso, dormiva da noi, aveva una stanza insomma dove col suo bagno insomma stava là e a volte anche lavorava un po' da lì da casa, non stava mai tanti giorni però insomma si fermava anche più notti, veniva anche ad Aquileia perché mio padre portava sempre tutti ad Aquileia. era una delle mete, la laguna e Aquileia erano proprio centrali nella, come dire, erano i posti del cuore ecco per mio padre ed era un uomo, il mio ricordo personale di Pasolini era di un uomo molto dolce, molto gentile, non era uno particolarmente espansivo però ecco mi ricordo che a volte veniva con Ninetto che era il suo compagno dell'epoca, l'attore Ninetto Davoli che aveva un cesto enorme di capelli ricci come si usava a quell'epoca e io ero piccola avevo paura di questo capellone così e Ninetto giocava su questa cosa insomma quindi mi correva dietro e mi prendevano in giro a casa per questa cosa dei capelli di Ninetto anche Pierpaolo però Pierpaolo sempre molto in modo molto delicato e molto così... E la Callas? E la Callas? Ecco della Callas o meno ricordi perché Pasolini era... ecco di Pasolini vorrei dire ancora una cosa che ricordo molto bene il giorno che è morto perché arrivò questa telefonata e io vedi mio padre... fu la prima e unica volta che vedi mio padre piangere mio padre prese una macchina a noleggio perché si vede che quello era il modo più rapido per andare a Roma e andò... partì per Roma immediatamente e tornando alla Callas ripeto ho meno ricordi però qualcuno ce l'ho sono dei flash di questa donna con i capelli sempre sciolti e questo lunghi lunghissimi e non aveva niente a che fare con lo stereotipo della cantante lirica un po' isterica così era una donna proprio semplicissima insomma che andava in cucina e scoperchiava le pentole per vedere che cosa si mangiava ecco ricordo questo di lei poi ricordo che un giorno raccontò a mia madre che del suo viaggio il suo primo viaggio dalla Grecia all'Italia in nave quando lei era già sicuramente una giovane promessa del canto però non era assolutamente famosa veniva qua per per costruire una carriera e che il comandante della nave le chiese di cantare lei cantò la banera della Carmen e alla fine prese un fiore da un vaso insomma della sala dove avveniva tutto questo e lo lanciò al comandante della nave e raccontò che questa esperienza questa vicenda di questo suo primo viaggio poi lei l'ha ripetuta tutte le volte che ha interpretato la Carmen ricordo questo aspetto perché questo racconto ecco poi grazie grazie di queste sentite parole ecco e che vi riportano a un'intimità che è vostra e che tu alcuni ringrazio da parte nostra di avercele regalate Francesca la cronaca è che in questo momento c'è una bellissima mostra a grado da te curata con dei disegni inediti che tu hai trovato legati a questo a questo mondo nuovo e vecchio dove Pasolini ha vissuto per un po' sì allora diciamo che in questo momento nella casa della musica di grado ci sono i disegni che Pasolini ha realizzato a grado partendo proprio dalle riprese del film idea e che nascono un poco dal film perché i suoi primi disegni riguardano le vedute della laguna quando vedrete il film ma l'avrete già anche già visto quando rivedrete il film ricorderete questo questo suo modo di guardare la laguna e ci sono i ritratti di Maria Callas e poi voglio dire invece ci sono dei disegni successivi in cui questo questo poeta questo regista si dedica a dei disegni che tornando all'archivio Zigaina sono stati ritrovati grazie a delle fotografie presenti nell'archivio stesso c'è un Pasolini che sta disegnando a Motta Safon l'isolotta dove c'era la casa del centauro e mi accorgo che intorno a troppi disegni e che molti mancano all'appello troppi disegni rispetto a quelli che si conoscono erano disegni famosissimi quelli conosciuti che hanno fatto il giro del mondo ma altri sono lì e io mi domando dove sono finiti e così mi sono messa a cercarla ho letto una nota in un libro di Giuseppe Zigaina che diceva che Pasolini aveva regalato un disegno a chi aveva un amico che lo aveva aiutato durante i lavori nel casone di Motta Safon e così ho capito che Pasolini regalava questi suoi disegni agli amici più vicini di questo territorio grande confronto di fotografie chi c'era chi non c'era alzati i telefoni suonati i campanelli incontrato persone meravigliose e i disegni di Pasolini ancora lì nelle case in cui lui li aveva lasciati i disegni trovati sono 11 che non sono pochi allargano lo sguardo di questo grande intellettuale sul nostro territorio io trovo una cosa bellissima che questa ricerca che dura da 6 anni e che sicuramente non è finita perché ci sono ancora disegni che mancano all'appello dalle fotografie ecco che questo territorio dopo più di 50 anni ancora rilasci i segni del passaggio di Pasolini ringrazio Francesca un applauso volevo aggiungere una cosa che probabilmente non tutti sanno cioè che tra le ragioni che hanno portato Pasolini qua in questo territorio oltre a Medea e all'amicizia con mio padre c'è stato anche il festival del cinema di grado che nasce, correggimi se sbaglio, un po' in contrapposizione con Venezia e dove sì sì infatti dopo chiusi i lavori su Medea sempre nel 69 a settembre, Medea abbiamo capito che si è chiusa a luglio a settembre abbiamo la presentazione di protesta cosiddetta di Porcile Pasolini non vuole andare al Lido di Venezia ci manda il produttore lui qua richiama Maria Callas quindi abbiamo di nuovo tutto il giro dei giornalisti eccetera al cinema Cristallo presenta Porcile proclamando che non va a Venezia perché ci sono più Porci che nel suo film così diceva da grado eh e da lì parte l'idea sostenuto da questi amici gradesi gradesi da questi amici intellettuali di tutto il Friuli e oltre di fare una sorta di contro festival nascono così le settimane del cinema internazionale di grado che hanno la durata di tre anni Giuseppe Zigaina fu presidente per due di questi tre anni sì ma infatti è giusto ricordarlo ma tutto parte sì tutto da quel viaggio degli anni 50 e poi da quella fotografia di Aquileia ma anche molto prima perché abbiamo Alessandra ha detto tutto abbiamo diciamo le prime no? le prime i primi apprezzamenti sul lavoro le prime recensioni delle mostre poi abbiamo i quadri friulani che sono un capolavoro proprio una una pittura letta proprio una fatta di parola poi insomma abbiamo una storia lunga che si chiude è con la bella mostra che è stata a diciamo così a a Pordenone quella sulla solitudine dell'ala destra perché Pasolini continua a vedere venire anche dopo il festival internazionale del cinema per giocare a calcio sua grande passione no? una partita di calcio vale più di una di un mese di vacanza e quindi lui andava a grado perché facevano le sabbiature i grandi campioni e quindi lui arrivava metteva sulla nazionale artisti cantanti dovremmo chiedere a Piero Colussi che è stato il curatore di questa mostra ecco mentre un'altra persona da ringraziare è Carlo Gabeshec perché è riuscito a ricostruire le location in laguna dei girati allora quando vedete il film ricordatevi a grado c'è il grande prologo c'è la scena dell'accampamento con la scena d'amore l'unica scena che fece arrabbiare Pasolini perché Giasone e Medea si dovevano baciare uno girava la faccia a sinistra quando l'altra andava a destra insomma fu l'unica volta che sbottò ma insomma vi volete baciare sì o no e poi l'altra grande scena è la scena del commiato dove vedete bene Orfeo la comparsa di Ruda che bacia Giasone e se ne vanno e gli argonauti se ne vanno e lasciano questi sono i tre momenti più importanti girati a grado su Medea bene allora su su questo mi chiudiamo questa questo dialogo molto molto intimo e molto così e in che inizia altri percorsi e ci tengo a dirlo perché qui siamo il primo giorno del festival di cinema archeologico e siamo dentro una novità che porta grazie al tuo lavoro al suoi ricordi al lavoro di tutti verso delle direzioni sempre più di verità bene grazie grazie a voi e buona visione di Medea